Si chiama Debbie Brown e sembra che abbia trovato un rimedio contro le zanzale per tenerle lontane, quindi per scacciarle. A sudire infatti bastano soltanto due ingredienti che riescono in qualche modo a far sì che siano repellente alle sostanze in questione. Di cosa si tratta? Un contenitore spray della vodka o alcol denaturato, quindi credo in mezzo l'alcol puro, lama nelive e diversi oli essenziali, 5 oli essenziali che terranno lontane le zanzare che possono essere scelti tra la citronera, il limone, il geranio, l'ecalipto e la lavanda. Si inizia mettendo all'interno della ciotola 20 gocce, si aggiunge un cucchiaio di alcol denaturato, mezza tassa di ama, merite, mezza tassa di acqua oppure di aceto, tutto nella bottiglia spray, si agita per bene per far comminere tutti gli ingredienti e poi in qualche modo, bene, in qualche maniera si sprossano nell'aria, va bene? Non è sicuro al 100% che tenga lontane le zanzare, però diciamo che sembra essere abbastanza utile per far sì che questo effettivamente parlando accada, quindi succeda. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi utenti di Youtube, mi raccomando iscrivetevi al canale e commentate, una buona sera da qui.